Nel crossfit esistono i movimenti di pesistica olimpica, in particolare questo è lo snatch, uno degli esercizi più difficili da apprendere, ma uno degli esercizi, se non l'esercizio, che migliora coordinazione, equilibrio, agilità e esplosività di una persona. E' un gesto molto molto tecnico e infatti noi ci spendiamo molto molto tempo nell'esecuzione e nella pratica di tutti i giorni. Allora siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17. Allora siamo aperti.